Sicuramente da scrivere alla bella giornata che vive il Comune di Fisciano è dovuto all'impegno della Banca di Credito Cooperativo di Fisciano che da sempre è vicino ai problemi e alle esigenze della comunità dell'Irno, alla iniziativa incomiabile degli organizzatori ma soprattutto alla partecipazione di tanti giovani, di tante ragazze, di tanti uomini che hanno riscoperto il piacere di stare insieme e di vivere qualche giorno di spensieratezza e di allegria. Sono riusciti a contaminare i ragazzi, i bambini, le famiglie, le mamme di un'intera comunità ed un Paese che partecipa a questa che è una tradizione antica delle nostre terre, delle nostre zone e che ogni anno con piacere viene riscoperta. L'impegno che si esaurisce in pochi giorni di rappresentazione e di manifestazione trova una passione ed un amore che si articola per gran parte dell'arco dell'anno. Questo è un fatto positivo perché comunque è un'occasione per stare insieme, per socializzare, per confrontarsi e per continuare ad esprimersi in modo originario anche sotto forma allegorica per rappresentare quelli che sono gli episodi più importanti di una comunità e di un Paese come il nostro. L'impegno per il futuro è quello che sia l'amministrazione comunale, sia la banca di credito cooperativo di Fisciano, che sicuramente possiamo definire e qualificare come banca etica che non rincorre il profitto ma che guarda al progresso e alla crescita della comunità, saranno impegnate anche negli anni a venire per consentire che questa tradizione che ha radici antiche e profonde non venca dispersa e possa essere riconsegnata alle nuove generazioni che dovranno coltivarla con maggiore entusiasmo e con maggiore passione.